Parola d'ordine Plastic Free. Il comune di Romano Dezzelino lancia la campagna per liberare scuole e uffici dalla plastica monouso, un'impresa non certo facile che però risponde alle azioni concrete richieste dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Ambiente. L'amministrazione comunale partirà quindi con la distribuzione di una bottiglia termica a tutti i 1050 studenti delle scuole cittadine e dipendenti comunali. Ci stiamo impegnando perché Romano diventi un comune plastic free e questa è una delle prime iniziative che stiamo portando avanti all'interno di tutta la comunità. Dotare tutti i bambini che frequentano le scuole dell'obbligo di una borraccia riutilizzabile e successivamente installare delle colonnine di erogazione dell'acqua potabile in tutti gli edifici pubblici. Un esempio che potrà dare una mano anche ai nostri cittadini nel non consumare plastica e quindi avere un minore impatto sull'ambiente. Una sorta di ritorno a un passato in cui l'uso e getta non esisteva e gli oggetti di uso comune venivano continuamente aggiustati, sistemati e riutilizzati. Una delle cose sulle quali stiamo lavorando è il riutilizzo, quindi il cercare di riutilizzare al massimo o di acquistare materiali riutilizzabili nella propria vita quotidiana. Oltre a quella che è la raccolta differenziata da far bene, il saper riutilizzare è soprattutto l'arma per permetterci di inquinare meno e produrre minori quantità di rifiuti.